Gesù trova sempre degli slogan che poi rimangono un po' dentro la testa, memorizzati, e questo slogan è molto interessante, vino nuovo in otri nuovi, adesso per il vino si usano le botti, le damigiane, i bottiglioni, le bottiglie, allora si usavano gli otri, che erano come delle amfore, no? Un tipo di terracotta erano fatti, con due manici, in maniera che, avete visto qualche volta i documentari delle navi romane? Ecco, non so se... ecco, allora lui dice, vino nuovo in otri vecchi si spacca, perché il vino nuovo fermenta, e allora ci vuole il vino nuovo in otri nuovi, che sono più forti, e Gesù dice questa cosa, perché? Perché Gesù ha bisogno di trovare persone disposte a cambiare radicalmente vita, non gli basta un po' di novità, diciamo, un rattoppo, fa anche l'esempio della stoffa vecchia, gli mette un rattoppo di stoffa nuova, di stoffa meno lisa, e cosa succede? Si strappa tutto, perché la stoffa vecchia ormai è meno forte, no? E quindi non puoi farlo questo. E allora non gli basta un rattoppo, che il nostro cristianesimo sia mettere un rattoppo così, ma lui vuole che noi lasciamo quel Vangelo, ci rinnovi la vita al cento per cento, dalla testa ai piedi, in ogni ambito della nostra vita, in ogni posto dove andiamo. Perché io vedo che oggi noi cristiani spesso siamo come i commedianti, sapete i commedianti, i teatranti, quelli che, ecco, voi che fate la commedia, no? Cosa fate voi? Prima della commedia vi truccate, vi travestite, diventate un'altra persona, e fate la vostra recita, bellissima tra l'altro, e dopo, quando avete finito, ritornate a essere il maestro, a essere l'operaio, a essere ognuno il suo mestiere. E tutto è finito. E allora, tante volte, noi facciamo proprio così, viene la domenica, ci mettiamo il trucco da cristiani, andiamo a messa, ma poi tutto finisce lì. separiamo la vita quotidiana dal rapporto con Gesù. Perché se Gesù venisse oggi, Gesù sarebbe un elettromeccanico, un operaio, un maestro, una casalinga come te. Perché Gesù era Gesù sempre, non era mica Gesù solo quando pregava, non era mica Gesù solo quando era nella sinagoga a pregare, Gesù era Gesù quando lavorava, quando giocava, quando faceva qualsiasi cosa. Anche noi dobbiamo essere Gesù sempre. Per esempio, metti che nel tuo ambiente di lavoro non ci sia, che non ci si voglia bene, magari. Mettiamo questo esempio. Che non ci si parli, o che ci siano delle invidie. E qualche volta si critica anche la Chiesa, te vorresti difenderla. Ma cosa fai? Difendi con le armi degli altri? Gli altri critico, non critico anche tu? Gli altri pregano, preghi anche tu? Ma te sei un cristiano! Ricorda che tu devi essere Gesù, non solo devi parlare di Gesù. Tu devi vivere il Vangelo lì sul tuo lavoro. Ci devi vedere lì che tu sei cristiano. I tuoi compagni di lavoro, i tuoi clienti, i tuoi fornitori, no, su qualsiasi lavoro che fai, è a casalinga i compagni di lavoro, saranno quando va a fare la spesa, no? Ecco, sempre ce l'hanno i compagni, no? Ecco. I tuoi compagni di lavoro devono vedere in te un Vangelo vivo, vivente, che sei tu quel Vangelo. E allora pensiamo solo a questo caso. Quando io so che qualcuno ce l'ha con me, non posso far la comunione. Vi ricordate cosa dice il Vangelo? Quando qualcuno ha qualcosa contro di te, tu lascia lì la tua perca all'altare. Vai prima a riconciliarti con tuo fratello e dopo. Capito? Quindi non posso fare la comunione se qualcuno ce l'ha con me, che non ho provato a riconciliarmi. Allora se io vivo questo, andrò a chiedere scusa. Immaginate cosa vuol dire in certi posti di lavoro, per esempio, andare a chiedere scusa. Non c'è nessuno che chiederà mai scusa a nessuno, perché è troppo umiliante. E tante volte ti capita, voglio chiedere scusa, e gli altri gli danno una patta sulla spalla, ma va là, rimangono imbarazzati perché non sono abituati. Ecco, vedete, basta poco. Vivere quel Vangelo che senti la domenica tutta la settimana, perché io vedo che i cristiani, ci sono tre categorie. Ci sono quelli che sono nel Nuovo Testamento, ci sono quelli che sono nell'Antico Testamento e quelli che sono ancora prima. Allora, il Nuovo Testamento è che sono quelli che è il capitolo amore, che si vivono da figli di Dio, capiscono che devono portare unità, comunione tra tutti. Quindi, ecco, poi c'è chi è nell'Antico Testamento, per esempio, c'è ancora paura di Dio. Chi dice, eh, devo fare il bravo, sennò Dio mi manda all'inferno, sennò Dio mi potrebbe punire. Come faccio? Ah, Dio ha dato dei comandamenti, eh, la cosa più importante di Dio, i comandamenti che ci dice che dobbiamo obbedire a questi comandamenti. Non li sappiamo magari, ma bisogna obbedire. Ecco, sapete, ancora la morale del dovere, l'Antico Testamento. C'è chi non ha ancora scoperto che Dio muore, eh? Tanti cristiani non hanno ancora scoperto che non bisogna avere paura di Dio. Ha paura di Dio. Ma dice anche chi è prima, eh, è ancora un po' nell'idolatria, vive i sacramenti un po' come superstizione, no? Per esempio, andiamo a fare la prima comunione, poi, oh, tu sai cos'è, no? La prima comunione è tutta una festa, no? Bisogna vestirsi, bisogna essere tutti... Poi dopo, domenica dopo non ci sei più, no? Allora è tutto un po' una superstizione, no? Oppure chi vuole sempre i miracoli, le guarigioni, ecco, ma non bisogna giudicare nessuno. Però, ognuno pensi che io non devo rimanere nell'Antico Testamento, non devo rimanere prima dell'Antico Testamento. Io devo essere nel Nuovo Testamento. E allora, sapete qual è l'idea centrale che tu devi avere? E questo è del Vangelo. Gesù dice, non si può digiunare quando lo sposo è qui. E chi è lo sposo? Lo sposo è Gesù. E questa è l'idea che devi avere. Tu devi essere innamorato di Gesù come tuo sposo. Gesù è il tuo sposo. Anche se tu sei già sposato, in realtà quello non è altro che un segno di un matrimonio più profondo che devi fare nella tua vita. Il matrimonio con Gesù. Finché non hai capito questo, c'è ancora nell'Antico Testamento. Per esempio, delle volte mi chiedono a me, ma tu perché hai rinunciato di sposarti? Sapete, sta domanda mi manda in crisi. Perché io non ho rinunciato a niente. Non è che la mia scelta è stata un no a qualcosa. La mia scelta è stata un sì. Perché nessuno vuol dire un no. E ho detto un sì a questa persona che non vedo, non sento, non la tocco, ma l'avverto con i sensi dell'anima. E questo mi vanto. L'altro giorno ho incontrato un prete di 84 anni. Dov'uva. Mi ha incantato. Diceva che da un po' di tempo parlo con Gesù come parlo con te. Mi diceva così. Ed è una gioia grande. Una grande gioia. E Gesù mi risponde nelle piccole cose di ogni giorno. Anche i miei fallimenti, perché lui si sente vecchio, deve ancora fare il prete, dice che non riesce a far niente, che fa tanti fallimenti, fa fatica. Perché immaginate, 84 anni, uno ha la sua età. Però anche nei miei fallimenti li vedo come delle grazie. E dico, Gesù, ti voglio bene, grazie che sei venuto a visitarmi. Ecco, sapete cosa ho detto quando ho visto quella persona? Ho detto, quello è uno sposato. Quello lì è uno felice. Quello lì è uno realizzato. Perché ha trovato Gesù. E ha 84 anni. Ed è più felice di tanti che ne hanno venti. Capite cos'è il cristiano? Il cristiano è uno che ha sposato Gesù. Ed è felice. E gli altri lo invidiano per questa sua felicità.